Siamo pronti per partire, siamo qui a Green P a Torino dove abbiamo appena fatto la presentazione da Italy del Giro E, domani mattina partiremo da qui per fare la prima tappa del Giro E, siamo pronti per 21 tappe, quest'anno faremo tutte le tappe del Giro d'Italia, quindi un giro completo molto impegnativo. Partiremo da Torino per poi arrivare a Milano facendo tutte le tappe, le 21 tappe, faremo anche una tappa cronometro, proprio l'ultima, da Sesto San Giovanni a Milano, una crono a squadre di regolarità e per la prima volta faremo anche lo sterrato come i professionisti, una tappa Montepulciano-Montalcino, quindi un Giro E completo, un Giro E impegnativo, un Giro E che sarà molto emozionante e divertente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!